Finiamo con questo No, sì, sì Io Cioè Dove l'aereo, no, ma posso andare Prima c'è la tua volta, poi c'è la domanda di rito No, no, c'è la domanda finale C'è la domanda finale Di rito Tu sai anche come è fatto il logo di Condirsi C'è una forchetta che sembra un punto sclamativo Poi c'è una specie di coltello a punto interrogativo Quindi si finisce sempre con una domanda Senza risposta Domanda di rito e poi c'è Vado in prossimità L'11 giugno Chi è fatto il dolce? Io È l'unico dolce che so fare È la torta del pane Il pane Il pane È il senso La faceva anche mia mamma Però la faceva solo La faceva con molto più pane Ma questo è pane No, ma questo sembra molto più ricco rispetto a quella di domanda Questa è la versione che io chiamo basica Questa è senza nient'altro Se no cacao Zucchero Buona buona Bravo Poi ammorbito con latte Un uovo Allora innanzitutto riempiamo i bicchieri che sono vuoti perché sennò sta cosa non fa un problema Vai là, vai È un vinto È un vinto Almeno il vinto Il vinto Il vinto Il vinto Auguri Renato Auguri Renato Auguri Renato Auguri Renato Auguri Renato Auguri 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 a condirsi a un vinto Renato Chiedi il tuo libro Auguri Renato Auguri Renato Auguri Renato